Sono uno psichiatra e l'altro giorno a me è capitato un caso che mi ha fatto correre un brevido gelido lungo la schiena. Qualche tempo fa arrivò una nuova famiglia nel quartiere una coppia sulla sessantina con un figlio sulla trentina. Il figlio era un cosiddetto sociale che siedeva molto raramente fuori casa. Naturalmente non potevo chiedere nulla direttamente ai genitori ma sembrava abbastanza ovvio che si fossero trasferiti nella nuova casa per sfuggire allo stigma sociale. Con il passare delle settimane il figlio usciva sempre meno fino al punto da non lasciare più l'appartamento. Ora era diventato un completo sociale, chiuso costantemente nella sua camera. Ogni notte sentivo sua madre gridare lì contro nella sua stanza. Quando la incontravo, casualmente, lei mi salutava con un sorriso ma aveva sempre un'aria pallida e tirata. passarono sei mesi dall'ultima volta che avevo visto il figlio. Il padre venne a trovarmi e mi disse potrebbe venire a trovarci domani. Non ero mai diventato un loro amico, né ero stato coinvolto professionalmente con la loro famiglia, ma come dottore vicino di casa senti il dovere di aiutarli e accettai. Il giorno successivo andai a casa loro e veni accolto dal padre e dalla madre. «Prego, venga con me», disse la madre, dirigendosi verso la porta della camera dal letto del figlio. Di fronte alla porta, la madre gridò «Sto per aprire!» Entrò e cominciò a urlare «Perché stai ancora dormendo? Tirati su!» Io vi ho di scatto le coperte dal letto e sotto di esse vidi qualcosa che mi lasciò incredulo e sconvolto. Sul letto era sdraiato soltanto un manichino senza vestiti nei lineamenti del volto. Fu a quel punto che il padre parlò. La persona che volevo vedesse è mia moglie, non riesce ad accettare la realtà. Il tetto per le ragazza del cosidino alla dibuise è per ogni cosa che non ci voglio vedere. industries Tomati